maresciallo carissimo buongiorno buongiorno signora carissima come posso servirla e se me mi scordate le cose che dovevo prendere capito signora allora mi deve dare mezzo chilo di bombetta di maiale peschissima lo so lo so che avete la carne buona poi mi deve dare un chilo di salciccio a punto di coltello il bacio però il bacio signora così mi fa intenzuare va beh continuo voi mi deve fare due kg di costatine di maiale ottima scelta e poi per finire un chilo e mezzo di fettine di guanciale quello buono lei è un buon gustaglio maresciallo ma dobbiamo fare per caso una bella grigliata questa sera no devo rimontare il maiale maresciallo vogliamo dare anche una controllatina all'acqua all'olio alle gomme la pressione e manda possiamo dare una controllatina all'olio dei freni ma si Nicola vieni a dare una mano al maresciallo maresciallo in occhio le mani maresciallo grazie se lei è sempre gentilissima e per lei maresciallo tutto maresciallo lei è una buon gustaglio maresciallo mi dica così che vado pure io sto così ma mi vengono le caldane forse è meglio se finisco la spesa e ci diamo a dopo grazie signora ciao maresciallo ci sta fracando grazie a tutti